Facciamo shopping con il registratore di cassa di Barbie! Prima vai con lo scanner, codice a barre, controlla il prezzo, fai il totale e poi passa la carta, inserisci la cifra, paga in contanti o usa la carta, com'è divertente fare shopping con Barbie! C'è il microfono e funziona davvero! Il registratore di cassa di Barbie, compra, paga e vai con lo shopping! C'è il microfono e funziona davvero!